Ingranaggi e ruote dentate perfettamente funzionanti da secoli, questo è l'orologio antico di Padova. Da oltre 600 anni questa torre scandisce le ore nel centro del capoluogo. È uno dei simboli di Padova, tra gli edifici più fotografati dai turisti e amati dai cittadini. Quella che si vede da Piazza dei Signori è una facciata monumentale, famosa opera di Giovanni Maria Falconetto, perfetto esempio di rinascimento padovano. Ma dietro lo splendido quadrante batte un cuore medievale di alta precisione. Il meccanismo dell'orologio è stato realizzato all'inizio del 400 su disegno di Jacopo Dundi da Chioggia, detto appunto dall'orologio, visto il prestigio di quest'opera. Nei due piani che contengono il complesso meccanismo è possibile ammirare l'insieme degli ingranaggi che muovono la lancetta e la campana, ma anche il grande pendolo e le ruote aggiunte nell'800, che segnano più chiaramente la data. Un tempo per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, il mastro orologiaio viveva direttamente nella torre, nelle stanze superiori. Ancora oggi il caricamento dei pannelli, con giorni e mesi, è manuale. A colpire è la precisione tecnica del meccanismo, ma anche il raffinatissimo quadrante. Ai nostri occhi può apparire complesso, ma un tempo scandiva il commercio in Piazza dei Signori, ed era un riferimento anche astrologico, con l'indicazione dei segni zodiacali. La visita a questo affascinante monumento è possibile grazie ai volontari di Lega Ambiente Salva l'Arte, che con passione guidano turisti e curiosi dietro le quinte del più famoso orologio della provincia. L'augurio è che nel futuro sempre più persone lo possano conoscere e che diventi una delle mete preferite di chi visita Padova.